I temi ambientali sono stati forse sottovalutati in alcuni momenti anche negli anni passati. Troppo spesso quando vediamo un problema sui rifiuti o sull'aria, sull'inquinamento dell'acqua, noi pensiamo che sia qualcosa o di lontano o di poco importante. Poi invece ci rendiamo conto sempre di più, giustamente, come i temi ambientali invece incidono sulla nostra vita ogni giorno. A cominciare se mi permettete anche della salute, al di là della qualità della vita. Di conseguenza questo studio, che per la prima volta viene fatto nelle Marche da parte di ARPAM, in collaborazione ovviamente con la Regione Marche, è indubbiamente lodevole perché ci mette in evidenza la situazione reale odierna di tutte le situazioni ambientali marchigiane, dalla qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la raccolta dei rifiuti, la situazione delle nostre coste, gli ambienti, proprio parliamo il plurale, gli ambienti nei quali viviamo e con i quali interagiamo ogni giorno nel nostro lavoro, nelle nostre vite, nelle nostre attività. Devo anche dire, e questo in parte mi conforta, in parte mi incoraggia e ci incoraggia anche ad operare ancora di più al meglio, che sono dati che presi nella media nazionale sono migliori, quelli delle Marche, nella loro stragrande maggioranza, rispetto alle medie nazionali. I dati rappresentano che le Marche sono leggermente meglio della media nazionale, in tutte le aree trattate, qualità dell'aria, le acque, rifiuti, uso del consumo del suolo, siti contaminati eccetera. Siamo tra le prime regioni d'Italia su raccolta differenziata, oltre il 71%, la quarta e quinta regione d'Italia per esempio. Sul consumo del suolo siamo in linea con i dati nazionali, leggermente al di sotto insomma. Un chilometro e mezzo, quattro circa quest'anno si è consumato come suolo. La bagnazione e la qualità del mare sono a livelli ottimali. I dati degli ultimi cinque anni confermano la qualità ottimale della nostra area a livello generale. C'è una sola stazione, Pesaro e anche Fano, che due anni fa ha superato per un giorno il limite dei 35 superamenti all'anno. Questo è dovuto ed è studiato alla provenienza delle polveri dalla pianura padana, che in qualche modo si risentono anche nel nord della nostra regione. Però l'ultimo anno non c'è stato più questo sforamento, cioè tutte le 17 stazioni sono sotto i 35 superamenti all'anno, che sono quelli consentiti dalla legge. Grazie. Grazie.